60. Patriota e scienziato Cerchio esseno Antonio Pacinotti, 1841-1912, patriota, politico e scienziato italiano. A lui si deve l'invenzione della dinamo e del motore elettrico in corrente continua. Si è manifestato diverse volte presso il cerchio esseno. Ha lasciato come ricordo per tutto il cenacolo questa foto che, come altre di personaggi illustri, è giunta dall'alto durante una trance di N.T. La foto è stata affissa nella casa dove l'Esseno si riunisce attualmente.